La Polizia Stradale, nell'ambito dei servizi disposti dalla Superiore Direzione Compartimentale, nel fine settimana ha sequestrato un autobus di linea con a bordo passeggeri perché non in regola con la prescritta visita di revisione. In particolare, un equipaggio della Polizia Stradale della sezione di Salerno, allo svincolo di Ponte Cagnano, alle ore 15 del giorno 23 gennaio ha accertato che il conducente di un autobus di linea adibito al trasporto di numerosi passeggeri diretti prevalentemente in Basilicata si era posto alla guida del citato mezzo nonostante non fosse in regola con la prescritta visita di revisione, nonché con il predetto mezzo già sottoposto precedentemente a fermo amministrativo da parte di personale della sezione Polstrada per violazione delle norme sulla revisione dei veicoli.